Ambulante accusa un malore al mercato di Mondolfo, vano ogni tentativo di rianimarlo, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Omicron nelle Marche è nessun caso segnalato, la regione non è a rischio zona gialla ma si valuta l'obbligo delle mascherine anche all'aperto in caso di assembramenti, attivati in nuovi posti letto in terapia intensiva. E a rischio chiusura il mercatino solidale che aiuta decine di famiglie in difficoltà, l'appello dell'associazione Terra dei Fioretti che deve lasciare il capannone adibito a magazzino a bellocchi di fame. Appena installato e già rovinato il presepe del pincio preso di mira dai vandali, l'assessore Lucarelli assicura denuncieremo i responsabili grazie alle telecamere. Intanto proseguono le iniziative del Natale a Fano, dal prossimo fine settimana al via la pista di ghiaccio e le proiezioni sul teatro della fortuna. Pesaro nel cuore illumina il centro storico con il debutto delle mascherine all'aperto, zero multe e green pass obbligatorio per accedere alle attrazioni, dalla Ternino alla pista di pattinaggio. Dallo scivolo al villaggio di Babbo Natale, Perrice, una delle manifestazioni più magiche e sicure d'Italia. Tra poco dopo il telegiornale, torna in diretta primo cittadino, ospite il sindaco di Fossumbrone Massimo Berloni. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con la tragedia avvenuta al mercato settimanale che si svolge in piazza Borroni a Mondolfo. Ahmed Magni, 79 anni, di origini marocchine ma residente a Monteporzio, è deceduto oggi intorno agli ore 13. Aveva la bancarella con la figlia ed era solito rimanere dentro un pulmino, ma ad un certo punto non rispondeva più. L'uomo, infatti, forse a causa di un malore, è stato ritrovato privo di sensi. L'anziano è stato adagiato sull'asfalto e sono seguite le manovre di primo soccorso. Un vigile ha provato a rianimarlo con un defibrillatore. Poi il 118 lo ha trasportato al Santa Croce di Fano, ma per l'ambulante, cardiopatico e con altre patologie non c'è stato nulla da fare. Trattandosi di una morte per cause naturali non è stata disposta l'autopsia. Sul posto anche i carabinieri. Ha 45 anni ed è un ristoratore della provincia di Ancona. Il tifoso della Fiorentina che sabato scorso avrebbe molestato la giornalista Greta Beccaglia con una pacca sul sedere, mentre era in diretta con lo studio di Toscana TV al termine della partita Empoli-Fiorentina. L'uomo accusato di violenza sessuale è stato individuato dagli agenti del commissariato di Empoli e dalla Digos di Firenze. La giornalista, infatti, dopo l'episodio, ha sporto denuncia in questura e non è escluso anche un provvedimento di Daspo nei confronti del 45enne. Proseguono le indagini per identificare gli altri tifosi che sarebbero responsabili di molestie verbali. A Fano oggi sono scattate tre ordinanze anti-smog con limitazioni per le auto inquinanti e per l'utilizzo di forni a legna e stufe a pellet. I dettagli nel servizio di Letizia Marchionni. Imitare il traffico e lo smog con l'obiettivo di contenere l'inquinamento dell'aria come richiesto dalla normativa vigente. È il fine delle tre ordinanze che a partire da oggi, lunedì 29 novembre, entrano in vigore a Fano. Le tre ordinanze anti-smog ha spiegato l'assessore all'ambiente Barbara Brunori, seguono il corso della delibera della regione Marche adottata nel 2010, che andava a lavorare su tre assi per contrastare l'inquinamento atmosferico per sforamenti di polveri sottili esteso sia nella parte valliva che in quella costiera. Naturalmente questi tre provvedimenti sono in itinere da anni, per cui non cambia niente rispetto allo scorso anno, laddove la circolazione verrà vietata in quella che è la zona blu, quindi la maggior parte della zona sia centro città che periferia, interdicendo quella che è la statale e alcune bretelle degli interquartieri. Verrà interdetto il traffico veicolare a quelli che sono i mezzi diesel di Euro 0, 1, 2, 3 che sono stati immatricolati prima del 1 gennaio 2006 e quelli a benzina di Euro 0, 1 che sono stati invece immatricolati prima del 1 gennaio 1997. Verrà interdetto il traffico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18.30, quindi dal lunedì al venerdì di fine settimana. Nel libro, naturalmente è un qualcosa che era già in vigore, oggi abbiamo provvisto all'interno della città della cartellonistica per favorire la conoscenza di questa cosa. La seconda ordinanza, proseguito l'assessore Brunori, riguarda tutte le attività produttive che dovranno ridurre del 10% le emissioni in atmosfera di fumi ed esalazioni di camini, mentre gli esercizi e i laboratori di panificazione, i ristoranti e le pizzerie potranno utilizzare la biomassa come legno, carbonelle e altri materiali solo se avranno previsto nei loro camini i sistemi di abbattimento delle polveri sottili. Secondo quanto previsto dalla terza ordinanza, infine, sia agli edifici pubblici sia a quelli privati è vietato l'utilizzo di forni a legna o stufi a pellet di classe inferiore alle tre stelle e nel caso in cui siano provvisti di altro sistema di riscaldamento. L'importanza delle polveri sottili è strategica per la nostra salute, per salvaguardare non solo l'aria che respiriamo, ma veramente le polveri sono talmente sottili che una volta inalate possono danneggiarci, per cui dobbiamo, se vogliamo veramente tutelarci, dobbiamo veramente fare delle azioni concrete e questa lo è. È stato condannato col rito abbreviato a due anni e otto mesi di reclusione Rizza Buzidi, magrebino di 19 anni, che insieme al branco aggredì due ragazzi l'otto maggio scorso alla Rocca Malatissiana di Fano. Nella stessa sentenza il giudice del Tribunale di Pesaro oggi ha condannato a un anno e otto mesi di reclusione, anche un ventenne marocchino per la rapina avvenuta poco prima ai danni di due giovani bloccati in auto. Gli otto autori dell'aggressione erano stati individuati la scorsa estate dalla polizia e per tre di loro erano scattate le ordinanze di custodia cautelare. Gli altri indagati andranno davanti al giudice di Ancona. Giuseppe Pasquino, padre di una delle due vittime, sui social ha commentato giustizia è fatta. Adesso l'aggiornamento sul covid nelle Marche. Sono tre i decessi che si sono verificati nelle ultime 24 ore. Si tratta di due uomini e di una donna di età comprese tra i 72 e gli 89 anni. I positivi riscontrati nel percorso nuove diagnosi sono 181. La provincia più colpita è quella di Pesaro Orbino con 88 nuovi casi, seguita da Ancona con 52. In aumento i ricoveri negli ospedali della regione, che sono 107 in totale, 5 in più rispetto a ieri. Sale di 4 il numero di pazienti in semi-intensiva, mentre resta invariato quello dei degenti in terapia intensiva. Le Marche al momento non sono a rischio zona gialla. Lo hanno ribadito questa mattina il presidente della regione Francesco Acquaroli e l'assessore Salta Martini. Gli indici sono sotto controllo, anche se per numero di positivi la nostra regione è al settimo posto a livello nazionale. Nelle prossime ore, annunciato il governatore, vedremo se sarà necessario produrre un'ordinanza per indossare la mascherina nei casi di assembramento anche all'aperto. Finora, ha aggiunto Salta Martini, nelle Marche non sono stati segnalati casi positivi alla nuova variante Omicron, ma dobbiamo adottare tutte le misure previste per il controllo degli accessi e raccomando l'uso delle mascherine FFP2. Sempre Salta Martini questa mattina ha annunciato l'attivazione di otto nuovi posti letto di terapia, intensiva all'ospedale regionale di Torrette. Il totale sale così a 246 in tutta la regione. Ci prepariamo ad affrontare la quarta ondata della pandemia, ha dichiarato l'assessore, non solo implementando le vaccinazioni anti-covid, ma anche rafforzando gli ospedali per non farci trovare impreparati. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Bellocchi di Fano, dove opera un'associazione chiamata Terra dei Fioretti, che da anni aiuta le famiglie in difficoltà, con un mercatino solidale di indumenti e giochi per l'infanzia. Purtroppo però entro pochi giorni i volontari dovranno lasciare il capannone utilizzato per questa attività e oggi Elisa lancia un appello alla cittadinanza. Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile e all'improvviso vi sorprenderete a fare l'impossibile. Questa frase di San Francesco riportata sui bigliettini lasciati all'ingresso racchiude perfettamente lo spirito della Terra dei Fioretti, un'associazione nata con l'intento di promuovere il bene sotto ogni forma. E lo fa qui, in un capannone situato in via Filippini a Bellocchi di Fano. Per due anni questi spazi sono stati utilizzati gratuitamente da un gruppo che smissa i generi alimentari a lunga conservazione, i giocattoli e l'abbigliamento da 0-18 anni, più gli abiti da donna di tutte le taglie, per scambiarli poi con le famiglie bisognose. Un progetto ambizioso portato avanti da Elisa e da tanti volontari che dedicano le ferie e il loro tempo libero a questo mercatino di beneficenza. Purtroppo però entro pochi giorni dovranno lasciare questo locale. Da qui l'appello per un altro magazzino dove spostare il materiale e rimettere subito in moto la macchina della solidarietà. Il progetto nasce circa 3-4 anni fa in Sordina perché io sono amica di una suora francescana, ho un'amicizia trentennale con lei e ha una casa famiglia che ospita donne e bambini, donne e menore in difficoltà. Quindi ho cominciato a raccogliere abbigliamento, giochi, libri, tutto quello che serve per la casa famiglia ma questa cosa si è poi estesa fino a che quello che raccoglievo nel mio garage non mi ci stava più. Così grazie all'aiuto di amiche, colleghe e altre mamme che si sono fidate di Elisa, di professione insegnante della scuola dell'infanzia, si è arrivati a questo capannone messo a disposizione dal titolare, nonché amico Luca. Ora però l'immobile è stato giustamente affittato, ci hanno detto, e quindi è l'associazione che deve trasferirsi e alla ricerca di un altro locale. Noi ci adattiamo a qualsiasi tipo di cosa che ci viene offerta, va benissimo una stanza, un garage, una cantina, un capannone anche molto più piccolo di questo. Vi siete già rivolti al comune? Ci siamo rivolti al comune però al momento non hanno disponibilità, quindi dovremo insieme all'associazione che è alle mie spalle, i frati minori delle Marche e la casa famiglia San Giuseppe di Cingoli, io faccio tutto tramite loro con il loro benestare, stiamo preparando una richiesta ufficiale intestata dove poi andremo dal sindaco per vedere se in un futuro non troppo lontano ci trova qualcosa. Però al momento, in questo momento di passaggio, siamo alla richiesta di qualcosa che ci possa aiutare. Infatti, ha proseguito Elisa, questa attività che negli anni si è allargata al nostro territorio permette di aiutare decine di famiglie fanisi e dei comuni limitrofi, italiani e stranieri, che anche a causa del periodo difficile che stiamo vivendo si trovano in difficoltà economica. E chi può lascia un'offerta libera oppure un detersivo, un pacco di pannolini, comunque cose che io rigiro alla casa famiglia e da qui il bene contagioso. Noi abbiamo un gruppo Facebook che si chiama il bene contagioso dove viene documentato tutto, quindi nella massima trasparenza le persone che donano vedono che io direttamente do in mano la casa famiglia. Quindi nella casa famiglia ci sono ospiti, c'è un'utenza che saltuariamente cambia. Quindi quello che a loro serve io glielo do in mano. Quello che a loro al momento non serve viene appunto scambiato o venduto o addirittura dato anche gratuitamente a famiglie nostre e il ricavato viene girato a loro. Ieri in diverse parrocchie delle Marche si è tenuta la 71esima giornata del ringraziamento organizzata da Coldiretti e che ha l'obiettivo per gli agricoltori di ringraziare Dio per i raccolti ottenuti durante l'annata con la speranza che le circostanze offrano condizioni sempre migliori nello svolgimento del duro lavoro in campagna. Per la provincia di Pesero Urbino l'iniziativa si è svolta nella parrocchia Santa Maria Ausiliatrice a Fossombrone. Alla funzione religiosa presieduta dal Vescovo Trasarti e Don Steven Carboni erano presenti anche il sindaco Massimo Berloni, il presidente provinciale di Coldiretti Tommaso Di Sante e l'assessore Maurizio Mezzanotti oltre agli agricoltori del territorio. Al termine della Santa Messa il Vescovo ha benedetto i tanti mezzi agricoli esposti nel piazzale antistante alla chiesa. Passiamo al Natale. Sabato sera a Fano l'accensione della Bete ha dato il via al programma di iniziative ma c'è già stata una mara sorpresa. Il presepe del Pincio è stato danneggiato e l'assessore Etienne Lucarelli promette tolleranza zero. Non hanno fatto in tempo ad installarlo che già qualcuno lo ha rovinato. Vandalinazione nella zona del Pincio a Fano dove i maestri carristi hanno posizionato le figure della Santa Famiglia. Braccia amputate alla Madonna e a San Giuseppe e orecchio rotto a una pecorella. Ieri mattina Matteo Angherà dell'associazione Carnival Factory ha già provveduto a una prima sistemazione ma rimane lo sconcerto e la condanno unanime per il gesto che come annuncia l'assessore Etienne Lucarelli non rimarrà impunito. Veramente una mara sorpresa perché abbiamo trovato dei danni proprio qui nel presepe che tra l'altro stiamo ancora sistemando perché gli ultimi pezzi saranno montati proprio questi giorni. Un altro pastore adorante, un'altra pecora, un altro cane pastore, un progetto che vuole aumentare la sensibilità e abbellire la nostra città ovviamente su un tema che è fortemente nella nostra tradizione tra l'altro porta in sé un valore artistico e un valore religioso quindi ovviamente per tutti coloro che faranno questi danni a questa opera avremo tolleranza zero. Abbiamo le telecamere che puntano proprio sul presepe quindi partiranno ovviamente delle denunce, eventuali dagini per capire chi sono gli autori di questo danno. Questo ha proseguito l'assessore e diventato il punto focale degli eventi natalizi in cui sono previste anche attrazioni per i bambini, il villaggio del gusto con le tradizioni della pasticceria e i mercatini. Quindi un luogo di grande accoglienza per la nostra città già in settimane essendo partite le manifestazioni natalizie in tutta la provincia sono arrivati sei pullman proprio qui nella città di Fano per visitare la nostra città quindi di questo siamo contenti ma ovviamente quanto vediamo poi che ci sono questo tipo di risposte siamo completamente contrari e anzi denunceremo fino alla fine quanto avvengono questi atti. Nel frattempo Comune e Proloco continuano a lavorare sulle iniziative del Natale Afano che hanno preso il via sabato sera con l'accensione della beta in piazza 20 Settembre alla presenza di oltre 100 bambini della città. Piccolo principe che ha portato all'accensione dell'albero, un bello spettacolo ma in realtà il messaggio che volevamo lanciare che Fano c'è quindi venite ad acquistare nella nostra città aiutate le attività economiche. Visto il difficile momento partendo con l'accensione dell'albero è partita l'illuminazione, sono partite diverse attività, ancora devono partire, lo faranno in questi giorni la partenza è prevista per il fine settimana, la pista del ghiaccio e la grande proiezione che deve avvenire sul Teatro della Fortuna, faremo dei momenti di apertura proprio per queste attività quindi comunicheremo anche quando verranno aperte e dopodiché ecco tra qualche giorno il Natale fanese, le piazze fanesi e tutte le attrazioni che erano previste partiranno e ci accompagneranno al giorno di Natale. Ieri però a causa del maltempo qualcosa è stato rimandato? Sì, a causa maltempo non abbiamo potuto procedere con i laboratori, i cookies dedicati ai bambini, dei maestri pasticceri e il primo racconto della tradizione pasticcera perché è questo che faremo ogni domenica e quindi la pasticceria Arturo non ha potuto raccontare la propria proposta per il Natale 2021, ovviamente lo faremo come previsto nel programma tutte le domeniche alle ore 18 qui nell'area Pincio, quindi un'area specifica dove la tradizione pasticcera farà emergere la città e soprattutto caratterizzeremo il nostro mercatino che con questo progetto sarà diverso da tutti gli altri, quindi ogni domenica alle 18 e ovviamente recupereremo anche questo momento che non si è potuto realizzare. E anche a Pesaro è stato acceso l'albero di Natale e sono state aperte le attrazioni ma con l'obbligo di mascherine e Green Pass. Nel fine settimana però non è stata elevata nessuna sanzione, Allora la nostra troupe formata da Angelica Panzieri e Stefano Barnesi ha documentato l'avvio di Pesaro nel cuore. Siamo a Rocca Costanza, apre oggi al pubblico il villaggio di Babbo Natale, villaggio che si estende su una superficie di oltre 2000 metri quadrati. Il sogno del Natale arriva a Pesaro con il Christmas Village, in città si respira già l'atmosfera della Lapponia, un mese pieno di magia e divertimento per famiglie ed adulti, poiché da sabato scorso, giorno ufficiale dell'apertura, fino a 6 gennaio 2022, il villaggio di Babbo Natale, realizzato all'interno della manifestazione Pesaro nel cuore, sarà aperto tutti i weekend, dalle 10 alle 19, apertura straordinaria nello stesso orario per l'8 dicembre e poi sempre, continuativamente, dal 23 dicembre al 6 gennaio. E sono proprio i simpatici folletti dalle orecchie a punta a condurre il pubblico, una volta entrato, in un tour magico all'interno. L'ingresso costerà 15 euro per adulti e bambini e sarà gratuito per i più piccoli, da 0 a 3 anni. Un evento nell'evento, poiché ad accogliere i visitatori, ci sarà anche il musical Natale da favola, che andrà in scena 4 volte al giorno, alle 12, alle 14.30, alle 16, alle 18. All'interno del nostro parco tematico avremo un'esclusiva, che è una produzione realizzata ad hoc, è il nostro musical, verrà cantato e verrà ballato dal vivo, grazie ai nostri esperti e professionisti, e racconteremo la magia del Natale. Lo facciamo all'interno di questo parco tematico, che è costituito dalle tre strutture principali, che sono la casa di Babbo Natale, il ricovero della slitta e l'ufficio postale. In giro per il parco si troveranno continuamente delle animazioni legate ai nostri attori, per cui è un coinvolgimento continuo. E da sabato a Pesaro si sono aperte ufficialmente le danze del Natale nel cuore 2021-2022, con le performance itineranti delle bande musicali di Candelare e Colombarone. E poi via ai mercatini tipici, alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza del Popolo e al maxiscivolo in Via Curiel, con tanti curiosi che non si sono voluti perdere il primo giorno di apertura. Sempre dalla piazza, ogni 30 minuti, partirà il trenino Wui-Pesaro Express, che passerà per le vie del centro storico. E l'albero dalle 96.000 luci a LED è stato finalmente acceso, pur senza cerimonia ufficiale. Per evitare assembramenti eccessivi, abbiamo evitato la tradizionale accensione dell'albero, e a star con la mascherina, perché è evidente che sono tante le persone che già oggi frequentano la città, e quindi bisogna evitare il più possibile di far aumentare i contagi. Approfitto anche di questa occasione per invitare ancora tutti a vaccinarsi, o meglio vivremo il Natale e complessivamente quest'inverno. attrazioni storiche, come l'albero più luminoso d'Italia, alle mie spalle, la pisa del ghiaccio intorno alla fontana, che rendono tutto più magico. Siamo molto contenti, voglio ringraziare Massi Santini, perché ha fatto un lavoro straordinario di coordinamento. Non è mai facile organizzare un Natale così ricco e pieno di attrattività, ma farlo anche in un momento ancora nel quale dobbiamo combattere contro il Covid è ancora più complicato. E ieri si è conclusa la 33esima edizione di Sapore Aromi d'autunno, e nonostante le difficoltà dettate dal momento storico, l'organizzazione si ritiene estremamente soddisfatta per l'afflusso di pubblico e per la partecipazione di produttori provenienti da tutta la regione. Ancora una volta, dunque, la Kermesse che chiude la stagione autunnale del territorio è stata in grado di soddisfare le aspettative degli ospiti non solo con i profumi e i gusti delle terre marchigiane, ma anche con interessanti iniziative di approfondimento, mostre e momenti dedicati alla salute e al benessere. Quest'anno, però, Sapori Aromi non finisce qui. Infatti, sabato 18 dicembre, si svolgerà il consueto appuntamento con il Gran Gala dell'Odio delle Marche, che prevede le premiazioni del concorso regionale L'Oro delle Marche, organizzato da Olea. La ventiduesima edizione dell'iniziativa si svolgerà nell'Aulamagna della Protezione Civile all'interno del Codma a partire dalle ore 10 alla presenza di tutti i produttori e delle autorità locali e regionali. E questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Adesso le previsioni del tempo e poi una nuova puntata di Primo Cittadino con il sindaco di Fossombrone, Massimo Berloni. Dunque, rimanete sintonizzati sul canale 17 e ci rivediamo tra poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.